Ciao a tutti, mi trovo adesso in via di Donna Olimpia, nel municipio 12 di Roma. Come potete guardare con i vostri occhi lo stato di degrado è assoluto. C'è questa immondizia sparsa su tutto il marciapiede, immondizia che non viene ritirata fuori dai cassonetti. Dovete considerare che qui, proprio di fronte a me, ci sono attività commerciali, ci sono abitazioni. Non è questo il modo di rispettare il servizio che dovrebbe rendere Roma capitale. E allora chiediamo a Virginia Raggi e a Zingaretti di trovare veramente e concretamente un accordo per risolvere questo problema. Ad oggi i cittadini romani si trovano in queste condizioni.